Musica Let's go bitches Molti di voi mi hanno chiesto qual era la classe con cui ho fatto la cam da 47 secondi Per chi non avesse visto il video della cam da 47 secondi Beh, andatevelo a vedere Perché attualmente il record della cam più veloce è fatta su questo gioco E appartiene a noi italiani e l'ho fatta, tra l'altro io, che infatti sono contentissimo di questa cosa 47 secondi Comunque passiamo alla classe Utilizzavo una K12 con caricatori aumentati e non freno di bocca in questo caso Ma soppressore fiammata Io lo chiamo soppressore di fiamma, però va Perché utilizzo soppressore fiammata? Bene, perché utilizzando caricatori aumentati E volendo vedere precisamente in che punto sparavo e dove mandavo i colpi Avevo bisogno di un qualcosa che riducesse la fiammata Però non mi facesse perdere danno e portata Come fa invece il silenziatore? Tanto non mi serviva niente avere un silenziatore Perché tanto i nemici mi avrebbero sgamato dopo le prime 5 kill in che punto mi trovavo Quindi non utilizzo il silenziatore per questo motivo Perché mi serviva più che altro qualcosa per uccidere i nemici velocemente E capire bene dove sparavo Tanto il mirino della K12 è abbastanza preciso E questa combinazione caricatori aumentati e soppressore fiammata Fa sì che l'arma diventa stranamente precisa Sembra quasi che non rinculi Comunque passiamo alle specialità Utilizzo prontezza perché se mi trovo mentre sto scattando, correndo Devo avere l'arma subito pronta a sparare Gioco di prestigio perché se finisco i colpi devo ricaricare immediatamente Predature perché mi devo, come ve l'ho sempre detto Mi devo muovere destra, sinistra velocemente Schivare colpi, apparire dietro i muri mirando e così via Estrazione rapida proprio per mirare più velocemente E poi il perk fondamentale che vi ho detto sempre Mettetevi un post-it con scritto Devo usare concentrazione Perché quando ti sparano addosso l'arma non deve rinculare Non si deve alzare Comunque una cosa che non ho detto Perché utilizzo caricatori aumentati Perché con 45 colpi avendo 6 nemici davanti È più facile uccidere in una grande quantità Quindi ecco perché utilizzo caricatori aumentati Ma ora passiamo al specialista Non utilizzo centro perfetto nelle specialità base Perché in questo caso ho bisogno di specialità Che mi rendano un secondo più aggressivo in questo caso Proprio per poter fare più kill all'inizio E quindi poi acquisire centro perfetto Shagall ovviamente per rifornirmi munizioni E i Q perk secondo me è fondamentale su questo gioco Perché quando si viene feriti Più o meno per 2-3 secondi La vita rimane bassa E si rigenera molto lentamente Quindi i Q la fa ricaricare veramente veloce Ed è un salvavita Poi utilizzo nelle specialista Quando acquisite specialista Cioè 14 kill Agilità per muovermi di destra e sinistra più velocemente Mira stabile in modo da poter fare hipfire Cioè sparare senza mirare E quindi uccidere i nemici vicini Senza dover mirare E quindi muovermi sempre camminando E tra l'altro in combinazione con Estrazione rapida Che sarebbe prontezza si chiama su questo gioco Sarete comunque delle macchine da guerra da vicino Poi utilizzo Scudo blindato Perché voglio evitare di essere ucciso Ovviamente dalle bombe Dagli esplosivi Che poi tanto in questo gioco Troverete miliardi di esplosivi I e D Che sono gli esplosivi artigianali Che secondo me sono Uno proprio delle cose più brutte I morbi più brutti Che hanno messo su questo gioco Cioè sono stati dei coglioni Che ha levato le claymore Le banzimbetti Perché sono peggio di queste cose Comunque Oltre a questo Anche Ovviamente Inflessibile Perché così Potete Porterete acquisire la cam Più facilmente Come questo Perché O e per tutto Ogni due assist che farete Varrà come un'uccisione Seconda cosa Serve un'uccisione in meno Per acquisire una streak Quindi Questa qui è la classe della cam Da 47 secondi Spero vi sia utile Bella bitches Cheeees Cheeees